Le barriere non sono mai state un problema per la grotta di Pertosa Auletta, neanche per chi ha problemi di vista. Lo dimostra l'evento della scorsa domenica, diversamente Spelio. È stato un successo ed è stato emozionante. È stato essenzialmente un momento di estrema inclusione. Il gruppo speleologico della sezione CAI Salerno ha scelto infatti lo scenario delle grotte di Pertosa Auletta per l'edizione 2021. L'evento ha abbattuto, almeno per un giorno, ogni barriera fisica ed ogni pregiudizio con l'intento di conciliare due mondi apparentemente distanti e diversi tra loro, la disabilità e la speleologia. È stato organizzato dal gruppo sportivo CAI di Salerno e patrocinato dalla sezione di Salerno e dalla delegazione regionale Campania del club alpino italiano, dalla Federazione Speleologica Campana con la partecipazione della Lega del Filodoro Campania ed è stata rivolta in particolar modo a persone con disabilità della vista. Si è trattato di un evento che fa seguito al corso di accompagnamento in grotta per disabili della vista. Le immagini dell'evento daranno vita ad un calendario per il 2022 che avrà lo scopo di tenere viva l'attenzione sulla disabilità e la speleologia. L'esperienza sarà illustrata durante il raduno di speleologia Speleocamarathon che svolgerà a Marina di Camerota nel mese di novembre.